le vostre esigenze specifiche. Non sono un appassionata di tecnologie e non voglio un altro apparecchio complicato da usare. Beh, non devi preoccuparti di questo quando scegli Dashcam Pro, ti arriva già montata e pronta all'uso. Tutto quello che devi fare è attaccare il caricabatterie per auto e Dashcam Pro.